Ho lasciato mio marito dopo vent'anni per un altro uomo. Lui mi dimostra tutto il suo amore, ma io non riesco a fidarmi. Come mai? Benvenuti nella mia nuova rubrica Un Consiglio da Rossella. Accominciamo. Vi spiego in breve questa storia. Questa donna sposata da vent'anni con dei figli è una donna che conosce quest'uomo. Lei del sud, lui del nord. È un uomo dove lei si innamora molto nella prima parte. Lei decide di rilasciare l'uomo per quest'altra persona e inizialmente lui voleva che lei si trasferisse da lui. Quando lui capisce che lei non vuole rinunciare alla sua indipendenza economica, alla sua casa, per andare in una città che non conosce, lui decide e dice che vuole mollare tutto per lei. Lui è un padre presente, è un uomo che le dimostra in tutti i modi il suo amore. Lei ha tentato anche più di una volta di lasciarlo perché non riesce a fidarsi di lui come se qualcosa gli sfuggisse. Perché lei fa questo pensiero e dice se io non sono disposta ad andare da lui, perché lui lo fa? Che cosa è che non quadra? Accominciamo. Allora, cara amica, tu mi dici che lui ormai è diventato un tuo burattino, che tu lo tratti anche male, ma che lui sta sempre là. Ti dici come mai, visto che lui in tutti i modi ti manifesta il suo bene. Allora, cara amica, purtroppo la risposta è molto semplice quanto cruda. Inizialmente tu di lui sei stata infatuata, innamorata, ma semplicemente adesso non lo ami. Quando una persona, nonostante tutto quello che ti dimostra, tu non riesci a fidarti di lui, anche se hai avuto tante sofferenze, anche se tu sei una persona diffidente, però se questa persona ti dimostra in tutti i modi che ti ama, ti dà anche delle prove con i fatti, con i comportamenti, è semplice. Tu non lo ami. Cioè non devi per forza tenere nella tua vita una persona che magari fa di tutto per te. C'è l'amore o c'è o non c'è. Non è detto che l'innamoramento e l'impatuazione si trasformi in amore. Perché lo tratti male? Perché non lo ami. Perché non ti fidi di lui? Perché non lo ami. Perché non vuoi una convivenza con lui? Perché non lo ami. Perché non ti vedi insieme a lui. Se una persona addirittura ti dà fastidio, ma di cosa stiamo parlando? Hai capito? Non ti devi fare un gruccio per questo. Lui è stata la ciliegina sulla torta per cui ti ha fatto lasciare il tuo marito di vent'anni, anche perché tu mi dici che era un matrimonio di facciata. Quindi lui è stata la motivazione che ti ha fatto fare un passo verso la tua felicità, andando con grande coraggio a chiudere un matrimonio che per te non era costruttivo. Forse probabilmente all'inizio tu avresti voluto che questa persona fosse la persona giusta, fosse il tuo riscatto nella tua vita, ma poi ti sei resa conto che non è così. Molte volte pensiamo che perché una persona fa tante cose belle per noi, che perché siamo state fortunate a incontrare una persona che ci dimostri il suo amore, dobbiamo automaticamente amarlo, anche se si comporta bene con i nostri figli, ma non è così. L'amore non è una conseguenza, l'amore è una scelta, l'amore è un sentimento. Quindi quello che ti posso dire, tu hai provato a lasciarlo e lui è cocciuto, ma si vede che non sei stata molto determinata, perché quando una persona ne vuole lasciare un'altra persona, trova sempre il modo per essere chiara, per essere decisa. Si vede che tu da una parte ti senti in colpa perché sai che probabilmente non puoi incontrare un altro uomo che ti dia tutte queste certezze, ma no che non lo incontrerai. Questo è quello che pensi tu, assolutamente. Però dall'altra parte il tuo cuore ti dice che non lo amo. Ecco perché tu non ti fidi, capisci? Non perché ci sia un altro motivo. Semplicemente devi far chiarezza in te stessa e dirti che purtroppo, nonostante questa persona sia eccezionale, nonostante questa persona sia magnifica, ma tu non lo ami. Tutto qua. Devi solamente, secondo me, ascoltarti un poco di più e prendere atto che l'amore non è una forzatura. L'amore non deve essere solamente presente perché è una persona meravigliosa. Ci possono stare delle persone meravigliose, bellissime, stupende, ma di cui poi non siamo più innamorate, che non amiamo più. Può darsi che ciò che ti ha colpito all'inizio era proprio quella mancanza che tu avevi nel tuo matrimonio e lui era andata a riempire. Un momento in cui però quella mancanza non ce l'avevi più perché hai preso una posizione e sei stata coraggiosa a fare una scelta, ti sei accorta che lui forse non era quella persona che tu avevi idealizzato, non era quell'amore che il tuo cuore ti sta dicendo, guarda, che per quanto questa persona è speciale, non è la persona che però io riesco a essere totalmente me stessa, ad amarlo. Capisci? Quindi fortunatamente hai il tuo stesso senso che ti aiuta. Ascoltalo, parla chiaramente con lui, sei stata tanto brava a fare una scelta perché rompere un matrimonio di vent'anni con dei figli non è una cosa assolutamente semplice e sono sicura che riuscirai con determinazione, con gentilezza a lasciare anche questa persona. Non è giusto trattare male un uomo, non è giusto che un uomo, una donna, quel che sia, non è giusto farlo soffrire avendo la consapevolezza che questa persona non la amiamo. Buona vita.